Ha comanzato questa firma sulla più epicultura tra regioni del nord, potrebbe rappresentare un primo passo, un primo step di questa famosa macro-regione, di questa sinergia tra regioni del nord? Diciamo che quando si tratta di problematiche delle singole regioni, del Veneto e della Lombardia, poi dell'Emilia Romagna e del Piemonte, poi inevitabilmente si trovano delle conseguenze anche in termini progettuali e delle sinergie. Credo che sia quasi naturale ormai riconoscere una grande regione del nord che in qualche modo può affrontare un singolo problema o più problemi, in modo anche unito. Questo è un piccolo segnale, penso che ce ne saranno altri, credo anche nella stesura del piano di sviluppo rurale che sono le risorse che daremo agli agricoltori nei prossimi sette anni. Nel momento di crisi di un ministro dell'agricoltura centralizzato, quello di Roma, qualcuno propone, il segretario della Lega propone facciamo fare gli assessori. Questo ha indovinato e ha centrato anche l'obiettivo, innanzitutto perché c'è stato un referendum che ha eliminato il ministro dell'agricoltura. Il secondo motivo è che ovviamente si trova più una grande sinergia tra le regioni che hanno un idem sentire anche in termini di sviluppo agricolo, piuttosto che regioni che sono importanti ma hanno anche forme di coltivazione completamente diverse. Terzo motivo è sicuramente il fatto che la materia è praticamente totalmente delle regioni e le regioni possono attraverso una macro regione come quella del nord trattare direttamente quella comunità europea. Secondo lei qual è la sensibilità da parte di altre regioni non governate o comunque non con l'assessore della Lega? Mi sembra una sensibilità importante perché quando si affrontano i problemi sono i problemi che si riconoscono in tutte le regioni e il modo più forte per poter affrontare questi problemi anche rispetto alla contropartita che in questo momento è non solamente il piano super rurale ma anche chi dall'altra parte del tavolo dialoga con noi, cioè il governo, si trova magari da fronte a un blocco che ha un unico interesse e un blocco sociale e economico che può portare a casa molti risultati per il proprio territorio. Prove generali di macro regione con altre regioni del nord, una governo Lega, insomma cosa ne pensa? Io lo dico da un anno, la macro regione agricola esiste di fatto, cioè poi se vogliamo fare di distinguo perché non è mai stata circoscritta dal punto di vista istituzionale possiamo anche farli, però è indubbio che queste cinque regioni ormai ciclicamente si trovino, condividano documenti, condividano azioni e soprattutto condividano la necessità di farsi sentire dal livello centrale nei confronti dell'Europa con le medesime modalità nel tentativo di cercare di risolvere problemi che si trascinano da troppo tempo. Devo dire che c'è grande sintonia in realtà, che non è una sintonia ovviamente di ordine politico ma che è una sintonia sulle cose da fare e questa è la grande dimostrazione, oggi raccogliamo anche un plauso rispetto a questa modalità da parte del mondo delle imprese sia agricole che industriali e questo mi conforta. Senta, ultimamente questo ministro dell'agricoltura è in crisi, vacante, qualcuno suggerisce come il segretario della Lega Nord dice beh facciamo fare gli assessori. Ah voglio dire, il fatto che il ministero sia vacante non sposta di un millimetro il problema, nel senso che noi ormai viviamo ministeri vacanti da anni ma questo è un paese che non ha più nessuna competenza in materia di normative agricole perché la competenza è una prerogativa comunitaria è un paese che ha devoluto il suo tempo di fatto le competenze materiali delle regioni è un paese che dopo oltre 20 anni non si capisce per quale motivo debba ancora esistere un ministero dell'agricoltura quindi credo che questa vicenda di fatto apre una profonda riflessione su un tema che è stato dimenticato per troppo tempo cioè che è il tema dell'utilità del ministero dell'agricoltura io credo che il ministero dell'agricoltura non serva, sia stato un inutile e fastidioso orpello costa un miliardo e 300 milioni di euro all'anno solo per la manutenzione del proprio potere e non produce nulla per le imprese, per le aziende che invece al contrario con quei soldi farebbero tante cose